Ciao a tutti e bentornati a Pillole di Stora Combo Pitalia. La pillola di oggi ve l'avevo promessa qualche settimana fa, quando parlavamo della seconda guerra mondiale parlavamo di maggio giugno del 1942. È una pillola particolare perché racconta un singolo evento di guerra che si sviluppò nell'ambito di circa cinque giorni e che passò alla storia come la battaglia di mezzo giugno, una battaglia dove per la prima volta sostanzialmente nel teatro del Mediterraneo l'asse, e principalmente ovviamente l'Italia che del teatro del Mediterraneo era la regina, seppe farsi valere nei confronti dell'Inghilterra. Una cosa che se ci pensate all'inizio della guerra sembra assurda perché sia gli alleati che l'asse stesso, italiani in testa, erano convinti che l'Italia potesse quantomeno rivaleggiare con la flotta inglese, tanto più che oramai non vi era più la flotta francese che avrebbe dovuto fare da naturale contraltare. Invece tra 1940 e 1941 si erano accumulate le sconfitte, la notte di Taranto e Capo Matapan in testa. Nel 1942 però le cose erano in parte cambiate. Erano cambiate in parte perché i tedeschi avevano mandato degli aerei ad aiutare gli italiani. Erano cambiate perché finalmente la marina italiana aveva capito come agire contro quella inglese, non tanto utilizzando solamente le grandi flotte sperando di arrivare a uno scontro decisivo come si poteva combattere un secolo prima, ma bensì cercando di puntare a degli attacchi mirati utilizzando sia la flotta che gli aerei di stanza terra, sfruttando così la netta superiorità che si poteva avere dal fatto di avere gli aerei che potevano partire dalle basi molto più vicine rispetto a quelle inglesi, soprattutto nel Mediterraneo occidentale. Inoltre, e verrà utilizzato per la prima volta in questa battaglia, i tedeschi avevano finalmente fornito agli italiani una sorta di radar leggermente primitivo chiamato De Te, che verrà montato per la prima volta su un cacciatorpediniere utilizzato proprio in questa battaglia, ma ne parleremo un po' più avanti. Verrà poi utilizzato molto di più nei mesi successivi permettendo così all'Italia di far venire quantomeno un po' meno quella superiorità che gli inglesi avevano dimostrato soprattutto a Capomatapan. Da dove partiamo? Partiamo dallo spiegare il perché di questa battaglia. La battaglia di mezzo giugno è una battaglia che è legata strettamente all'esistenza dell'isola di Malta. Fin dall'inizio della guerra l'isola di Malta era stata una delle basi più importanti, se non la base più importante nel Mediterraneo per gli alleati. Da sola costituiva una spina nel fianco in tutto il sistema dell'asse perché permetteva agli aerei di partire e di colpire le navi da trasporto che navigavano tra la Sicilia, tra l'Italia e l'Africa. Permetteva di avere una base in cui le navi potevano andarsi a rifornire e così i sottomarini. Insomma era un grosso grosso problema per l'asse ed era incredibile pensare che nel 1940 allo scoppio della guerra non esistesse sostanzialmente alcun piano per poterla sottomettere e conquistare, nonostante gli inglesi forse l'avessero addirittura già data per persa ad inizio guerra. Nel 1942 le cose sono però cambiate. È stato preparato un piano per conquistarla, il cosiddetto piano C3. Sono state approntate le divisioni che avrebbero dovuto compiere la conquista dell'isola. Inoltre da molti mesi le forze dell'asse, sia italiane che tedesche, martellano l'isola danneggiandone i porti, danneggiandone gli aeroporti, distruggendone aerei a terra e insomma rendendo l'isola quasi completamente neutralizzata. È un quasi diritto perché per tutto il 1941-1942 gli inglesi avevano cercato di far arrivare all'isola sempre più rifornimenti e farlo era stato un problema perché ovviamente i rifornimenti che partissero da Alessandria d'Egitto o che partissero da Gibilterra avevano dei grossi problemi a raggiungere l'isola sotto gli attacchi da parte delle forze dell'asse, soprattutto quelli che giungevano da ovest, che erano quelli ovviamente più facilitati perché da Gibilterra arrivavano ovviamente dall'Inghilterra, i quali dovevano attraversare un lungo tratto di mare senza alcuna copertura aerea, attraversare lo stretto di Sicilia con tutti i rischi del caso e arrivare a Malta, che peraltro gli italiani avevano attentamente circondato di mine antinavi. Insomma un percorso molto 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 accidentato. Proprio per questo i rifornimenti all'isola erano sempre arrivati in piccola quantità, tramite sottomarini, tramite navi veloci, alcuni dragamine che erano stati riutilizzati allo scopo, piccole puntate di mercantili i quali avevano più che altro cercato di passare inosservati agli attacchi nemici. Le cose però sono cambiate, ormai i rifornimenti non bastano più, i danni portati dagli aerei dell'asse sono troppo grandi e gli pensano che Malta sia prossima a cadere se non riusciranno in qualche modo a far arrivare pezzi di ricambio, benzina, soprattutto benzinario di cui avevano bisogno gli aerei e armi appunto per prepararsi un'eventuale invasione. Per questo è necessario creare un convoglio molto più grande di quelli creati fino a quel momento. Viene preparato un piano che prevede due convogli che in contemporanea partano dalle due destinazioni periferiche del Mediterraneo, uno che parta da Gibilterra e un secondo che parta da Alessandria d'Egitto. I due convogli saranno molto diversi, entrambi conterranno dei mercantili, entrambi che saranno dei piroscafi modificati, entrambi conterranno una petroliera che dovrebbe permettere di far arrivare della benzina avio a Malta e entrambi avranno una scorta. Quella che arriverà da Gibilterra sarà una scorta che almeno fino al canale di Sicilia sarà molto più numerosa perché non vi potrebbe essere copertura aerea, quindi una scorta che prevederà anche due portaerei. Quella che invece partirà da Alessandria sarà una scorta più piccola, anche per cercare di passare inosservati contro la flotta italiana. Perché due spedizioni? Beh, la speranza è che almeno una delle due possa arrivare, quindi sperano che gli italiani decidano di concentrarsi o su una o sull'altra, lasciando in questo modo l'altra ad arrivare, oppure che decidano di dividere le flotte, permettendo in questo modo a parte dei mercantili di una e parte dell'altra di poter raggiungere Malta. Le due operazioni avranno due nomi in codice diversi. La spedizione che partirà da Gibilterra si chiamerà Harpoon, quella che partirà invece da Alessandria d'Egitto si chiamerà Vigoruz. Ora, per comodità vi spiegherò le due spedizioni in maniera separata, anche perché a tutti gli effetti si tratta di due avvenimenti diversi, perché in nessun modo le due spedizioni giungeranno a contatto, né lo faranno le truppe italiane impiegate nel cercare di fermarle, quindi ne parleremo separatamente, ma dalle date capirete ben presto che i due avvenimenti sono assolutamente contemporanei. Sia per quanto riguarda le partenti, in realtà leggermente sfasate, sia per quanto riguarda il previsto arrivo a Malta, che per entrambe le spedizioni avrebbe dovuto avvenire all'incirca il 15 giugno. Partiamo da Occidente, partiamo dall'operazione Harpoon. L'11 di giugno le navi inglesi lasciano Gibilterra. Gli italiani sanno che partiranno, ma non hanno ben chiaro dove passeranno e soprattutto non hanno ben chiaro quale saranno i tempi di percorrenza. Anche perché in realtà le navi inglesi procedono abbastanza lentamente perché con loro hanno cinque piroscafi riutilizzati appunto a mercantile e una petroliera che è giunta dall'America e che è abbastanza moderna e si chiama Kentucky. Queste navi procedono in realtà lungo la costa dell'Algeria e tra l'11 e il 12 di giugno i sottomarini italiani che sono stati stesi come uno schermo tra le Balearie e la Tunisia non riescono ad intercettarla. Il 13 di giugno finalmente giunge notizia che delle navi inglesi sono state avvistate. Si tratta in realtà di due incrociatori veloci che erano all'avanguardia della flotta e nonostante la flotta italiana guidata dall'amiraglio da Zara esca dalle sue basi per cercare di intercettarle non riesce ad ottenere nessun risultato. Il 14 di giugno finalmente riescono ad entrare in azione i sommergibili e gli aerei e saranno loro a fare la maggior parte dei danni al convoglio in questo giorno. Ad attaccare sono i sommergibili italiani che lanciavano i loro siluri molto spesso avvicinandosi anche molto alle navi nonostante la grande protezione data dai cacciatorpedinieri inglesi ma molti dei danni saranno approntati dai bombardieri, bombardieri tedeschi protetti peraltro anche da alcuni cacciatedeschi ma anche e soprattutto bombardieri italiani Savoia Marchetti SM 79 ed SM 84 protetti anch'essi da caccia italiani. Nonostante il coraggio degli aerei italiani dei sommergibili in realtà i danni sono abbastanza limitati. Viene distrutto un incrociatore quasi quasi completamente distrutto sarà costretto a tornare indietro viene affondato un mercantile ma nonostante sia i siluri dai sommergibili che quelli dagli aerei colpiscono più volte le navi nemiche molte volte i siluri non esplodono. Nei mesi successivi verrà scoperto che questo problema legato ai siluri che colpiscono ma non esplodono è un problema abbastanza comune e che quasi tutti questi siluri che fanno cilecca provengono dallo stesso silurificio situato a Baia vicino a Napoli. Verranno fatte delle indagini verrà scoperto che uno degli ingegneri quello che si occupa del controllo qualità tra virgolette delle controllo sulla capacità di esplosione del siluro in realtà farà faceva il suo lavoro in maniera del tutto errata non facendo in realtà nessun controllo e permettendo che i siluri che non funzionavano potessero entrare in in uso. Dopo la guerra questo ingegnere dirà che lo faceva volutamente lo faceva per sabotare le truppe dell'asse ma in realtà da cosa ho letto in giro ovviamente non conosco direttamente la storia pare che ci siano molti dubbi sulla cosa e che probabilmente la sua dichiarazione di aver fatto praticamente un'azione partigiana fosse successiva alla fine della guerra e che fosse ben chiaro che quello che era successo era legato alla sua incapacità e soprattutto alla sua scarsa voglia di controllare siluro per siluro lasciando che grosse quantità passassero senza alcun controllo ma questo ve lo lascio come nota di colore non ho trovato moltissime informazioni se le trovaste sarei ben lieto di leggere e discuterne con voi. Insomma il 14 di giugno i danni portati dagli aerei sono purtroppo per per l'asse molto limitati nonostante questo verso fine serata il grosso delle truppe e delle navi inglesi decidono di tornare indietro se ormai troppo vicini al canale di sicilia la protezione che avrebbero potuto dare sarebbe stata decisamente minore e i rischi che le aerei dell'asse che ormai sono molto molto vicine alle loro basi possono affondare alcune delle unità maggiori sono troppo alte. A proseguire è solamente un incrociatore leggero il cairo accompagnato da circa nove cacciatorpediniere i restanti cinque mercantili più la petroliera. La notte tra il 14 e il 15 giugno è però la notte di Dazzara. L'ammiraglio italiano esce infatti in caccia con le sue navi due incrociatori cinque cacciatorpedinieri sperando di poter intercettare la flotta inglese che non solo è rallentata dai mercantili non solo deve occuparsi di difenderli ma dispone anche di una minor qualità nelle navi che sono più numerose perché hanno molti cacciatorpedinieri ma hanno ma sono meno potenti perché l'unico incrociatore a disposizione degli inglesi il cairo ha una gittata dei cannoni con una gittata minore rispetto ai due incrociatori italiani. Questo Dazzara lo sa e spera di riuscire a fermare contro il convoglio e affondare i mercantili. Alle 5 e 30 del mattino del 15 giugno vicino a Pantelleria le due flotte entrano in contatto. Dazzara aveva un problema due dei suoi cacciatorpedinieri erano infatti molto vecchi il Malocello e il Vivaldi e per questo gli incaricò di compiere un percorso separato rispetto al resto della flotta. Gli inglesi infatti appena videro arrivare gli italiani decisero di separarsi. I mercantili vennero mandati verso sud in direzione della costa tra la Tunisia e la Libia sperando così di poter sfuggire appunto alla caccia degli italiani che arrivavano ovviamente da nord e dall'Italia mentre le altre navi si disposero a schermo per cercare di rallentare le navi italiane e permettere ai mercantili e alla petroliera di fuggire. Il Malocello e il Vivaldi vennero inviati separatamente rispetto al resto della flotta proprio contro i mercantili che fuggivano verso sud che erano ovviamente le navi più lente di tutto il convoglio. Gli inglesi però ben presto si accorsero della manovra e per questo deviarono la loro rotta e con tutta la flotta piombarono sui due cacciatorpedinieri. Il Vivaldi venne ben presto colpito, messo a fuoco e immobilizzato. Il Malocello nonostante il capitano del Vivaldi gli avesse chiesto anzi forse direttamente ordinato di allontanarsi perché temeva che anche Malocello potesse essere colpito e distrutto rimase nelle vicinanze dell'unità, peraltro un'unità gemella, proteggendola disponendo dei campi di fumogeni. Nei minuti successivi gli inglesi più volte cercarono di attaccare da lontano i due cacciatorpedinieri ma ogni volta il Malocello muovendosi rapidamente a zigzag e proteggendo l'unità compagna appunto con i campi di fumo riuscì a evitare che ci fossero dei danni, anzi lanciò a sua volta dei siluri che non fecero danni ma che convinsero gli inglesi a rimanere lontano. Mentre il Malocello riusciva a portare via il Vivaldi tornando verso l'Italia, di questo ne parleremo ancora tra qualche minuto perché è ancora interessante, Dazzara intanto era riuscito ad avvicinarsi alle navi inglesi. Come detto i suoi incrociatori erano molto più potenti e con una maggiore gittata e per questo mentre gli inglesi cercavano di allontanarsi a loro volta stendendo dei campi di fumo Dazzara riuscì a piazzare degli ottimi colpi sulle navi nemiche danneggiando il Cairo, l'incrociatore leggero, affondando un cacciator pediniere e danneggiandone un altro. Intanto si è fatto giorno. La speranza degli inglesi di passare inosservati agli aerei e i sommergibili italiani è oramai vana e appena giorno gli aerei dell'asse tornano a colpire il convoglio il quale perde altri due piroscafi, perde la petroliera che era sicuramente il trasporto più importante e perde un altro cacciator pediniere per poi riuscire ad allontanarsi. Dazzara che intanto ha perso il contatto grazie anche alla capacità degli inglesi di stendere i loro campi fumogeni, cosa che peraltro riconoscerà lui stesso, aveva due opzioni. O andare ad aspettare gli inglesi a nord di Pantelleria, laddove non vi erano campi minati, convinti che avrebbero appunto evitato i campi minati, oppure dirigersi verso sud-est, la rotta più veloce verso Malta ma anche la rotta più pericolosa perché vi era la maggior parte dei campi minati italiani. Dazzara sceglierà la prima opzione, ma purtroppo per lui gli inglesi invece avevano scelto la seconda e rischiando appunto di scontrarsi contro delle mine si erano diretti verso Malta passando da sud-est. Le navi inglesi pagheranno un pesantissimo dazio ai campi minati. Altri i tre cacciatorpedinieri infatti verranno distrutti e affondati, un mercantile verrà distrutto, un altro verrà danneggiato gravemente e alla fine a Malta arriverà solamente un mercantile e un secondo mercantile molto danneggiato, quali porteranno dei rifornimenti in realtà molto molto scarsi ma che comunque saranno in grado di rifornire la guarnigione almeno per qualche mese. Dazzara, saputo appunto degli avvenimenti, era intanto tornato verso l'Italia anche perché gli era stato fatto ben presto capire che non vi erano alcune possibilità di intercettare ulteriormente le navi inglesi e che ai rischi di avvicinarsi a Malta e di essere colpiti dai bombardieri inglesi era troppo alto. Vi avevo detto che due navi in realtà si erano già allontanate verso nord. Bene, queste navi, il Malocello e il Vivaldi avevano proseguito la loro rotta verso l'Italia ma erano stati attaccati nuovamente, due volte addirittura, la prima volta incredibilmente ad opera di bombardieri italiani, dei Savoia Marchetti che fortunatamente non avevano fatto danni e la seconda volta ad opera di bombardieri inglesi, quali li avevano attaccati, ancora una volta il Malocello era stato in grado di difendere con le sue cortine fumogene l'unità gemella e anche questa volta entrambe le navi riuscirono a tornare sane e salve in porto, cosa che peraltro valse al capitano della Malocello una medaglia d'argento al valore militare. Insomma, Harpoon era stata un fallimento, le navi inglesi erano state impegnate, avevano subito gravissimi danni a causa di quelli italiani che si erano comportati in maniera assolutamente ottima e dei sei mercantili e della petroliera solamente due mercantili, di cui peraltro uno danneggiato erano riusciti ad arrivare a Malta. Le uniche speranti degli inglesi di rifornire l'isola a questo punto provenivano dal secondo convoglio, Vigorus, quello che sarebbe dovuto partire da Alessandria d'Egitto. Da questa parte la spedizione è completamente diversa. L'obiettivo degli undici mercantili protetti principalmente da naviglio minore è quello di evitare assolutamente la flotta italiana. Questo perché la flotta italiana, che agiva nel Mediterraneo orientale, era molto più grande e al comando dell'ammiraglio Iachino vi erano addirittura due corazzate, la Littorio e la Vittorio Veneto. Insomma, per gli inglesi che non avevano alcune nave da poter opporre a questa forza, l'unica speranza era quella di evitare gli italiani. Anzi, gli inglesi speravano navigando sotto costa, lungo le coste della Libia, che all'epoca peraltro erano ancora in parte occupate proprio dagli inglesi. Tobruk, infatti, non era ancora caduta sotto le mani di Rommel. La speranza era quella di poter attirare la flotta italiana a tiro degli aerei inglesi, infiggeri dei danni e costringerla a ritornare indietro. Quando le navi inglesi comandate dall'ammiraglio Vianne uscirono da Alessandria, lo stesso fece la flotta italiana, la quale si diresse verso Creta per intercettare le navi inglesi. Entrambe le flotte furono duramente colpite dai bombardamenti. Se la flotta inglese fu duramente colpita, molti mercantili, alcuni cacciatorpedinieri vennero affondati, anche quella italiana fu colpita. La Littorio ricevette un colpo, che fortunatamente non fu molto grave, ma soprattutto venne affondato un incrociatore, l'incrociatore Trento che venne colpito dagli aerei e poi definitivamente affondato da un sommergibile. A questo punto Vianne, che almeno inizialmente sotto i primi bombardamenti, aveva deciso di invertire la rotta e tornare verso Alessandria per salvare i mercantini superstiti, saputo che la flotta italiana aveva ricevuto dei colpi e pensando che, come era avvenuto in passato, temendo il rischio di perdere unità maggiori, si sarebbero ritirata, decise di girarsi di nuovo e tornare a puntare verso Malta. In realtà la flotta italiana questa volta non sbandò, a differenza di Capomatapanne decise di non tornare verso l'Italia, ma nonostante le perite e nonostante i rischi, Iachino ordinò alle sue navi di continuare a puntare verso le navi avversarie. A questo punto saputolo Vianne non poteva far altro che girare le sue navi e so di fronte al rischio di essere completamente distrutto a tornare indietro, ma questa manovra gli costò altri attacchi da parte degli aerei e altri mercantili affondati. Il 15 Iachino tornava in porto, aveva perso il Trento, aveva la ritoria danneggiata, ma aveva impedito che alcun mercantile inglese raggiungesse Malta. Insomma, alla fine della battaglia di mezzo giugno gli italiani avevano ottenuto due vittorie. Sul lato occidentale avevano ottenuto una palese vittoria tattica, perché erano riusciti a distruggere più navi avversari, avevano dimostrato che la propria flotta, se in parità o poca superiorità numerica, era in grado di farsi valere e molto contro le navi inglesi, avevano dimostrato di poter ben utilizzare l'arma aerea insieme all'arma navale, cosa che fino a quel momento non erano riusciti a ottenere, ma non avevano ottenuto una vittoria strategica completa, perché due mercantili erano riusciti ad arrivare in porto. Dall'altra parte, invece, sul lato occidentale, gli italiani avevano ottenuto una vittoria strategica, perché nessuno dei mercantili inglesi era riuscito ad arrivare a Malta, anche se dal punto di vista tattico non si può parlare di una vera e propria vittoria, perché avevano perso comunque un'unità importante come il Trento e soprattutto non erano arrivati a contatto con gli inglesi. Quello che però è più importante, gli italiani avevano dimostrato due punti. Il primo è che Malta continuava ad aver bisogno di rifornimenti, gli inglesi dovranno progettare una nuova spedizione per rifornire Malta dopo il fallimento di Vigo, Rus e Arpun, con il risultato di arrivare alla cosiddetta battaglia di mezzo agosto. Ne parleremo probabilmente in futuro in un'altra pillola, immagino quest'autunno dopo la pausa. Il secondo è che gli italiani finalmente dimostrano di poter farsi valere nel Mediterraneo, di poter dire da loro, e seppur indeboliti dopo le sconfitte di Capomatapanne e della Baia di Taranto, di poter impensierire le navi inglesi. Insomma, nel 1942 sembrava che finalmente le cose stessero cambiando. Sarà solo il fronte africano, l'entrata in guerra degli Stati Uniti, che peraltro per la prima volta in questa battaglia utilizzeranno i loro bombardieri nel Mediterraneo, faranno parte dei bombardieri che attaccarono le navi di Iachino nel lato orientale dello scontro. L'arrivo degli Stati Uniti capovolgerà definitivamente le sorti della guerra. Bene, con questo è tutto. È stata una pillola lunga, c'era in effetti molto da dire, molto da spiegare, spero di averlo fatto in maniera molto chiara. Ci vediamo domani con un'altra pillola. Io come al solito vi ricordo di essere curiosi, perché la storia del mondo là fuori è piena di meraviglie e storie fantastiche, storie incredibili che nessuno scrittore, nessun regista avrà mai la fantasia di mettere nelle loro opere. E se volete curiosare tra queste storie, qui a fianco, c'è l'elenco delle pillole uscite fino adesso. Ci vediamo domani con un'altra pillola, sarà dedicata alla Seconda Guerra Mondiale, andremo avanti con la nostra storia. Continuate a seguirle. A presto. Ciao ciao.